La proposta di apertura avanzata da lei stamattina non ha trovato in realtà riscontri da parte del Governo, che è l'interlocutore ultimo di questo disegno di legge. Non ci riconosciamo in un interlocutore che non contatta, se non alle 16.03, la principale forza di opposizione del Paese. Se vuole continuare a contattare altri ci sta anche bene, ma noi, ripetiamo, questa era l'ultima cosa che potevamo tollerare. Ce ne torniamo fuori, ce ne torniamo a discutere dei temi che interessano i cittadini, ce ne torniamo a discutere delle questioni che importano al Paese e il Presidente del Consiglio Renzi si gingilli pure col prenderci in giro tramite i suoi tweet. Noi non ci stiamo più. Ora basta. Mi dispiace di questa decisione, come ho avuto modo di esprimere prima. Dichiaro aperta la votazione, parere al contrario, relatore al Governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.1370, si vota la prima parte fino al composto da. Se respinta sono preclusi i successivi fino a 2.381, pagina 619. Dichiaro aperta la votazione, parere al contrario, relatore al Governo. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.371, parere al contrario, relatore al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. 2.372, parere al contrario, relatore al Governo. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro aperta la votazione, il Senato non approva.